Parkinson e nutrizione, pillole di consigli, questo il tema del primo incontro ad ingresso libero dedicato al tema dell'alimentazione nei malati affetti dal Parkinson che si è tenuto questa mattina presso la sala convegni del centro adriatico della Fondazione Paolo VI a Pescara. La Fondazione Paolo VI già dal 2023 sta approfondendo un po' la tematica del Parkinson perché come diceva lei è una malattia che sta aumentando in maniera esponenziale per cui noi già dal 2003 abbiamo fatto una formazione specifica, siamo comunque il primo centro MIRT per quanto riguarda la riabilitazione nel Parkinson e oggi abbiamo integrato la nostra formazione dando pillole di consigli per la nutrizione e sono pillole di consigli che sono indirizzate sia al malato di Parkinson ma anche ai familiari per migliorare la qualità di vita della persona. Noi abbiamo tantissime persone che si sono affidati al nostro centro, quindi alla nostra professionalità e riabilitiamo molte persone appunto che si sono affidate a noi. Il malato di Parkinson può mangiare, quello che noi vogliamo è dare dei consigli su una alimentazione bilanciata e corretta questo perché? Perché per una serie di motivazioni può andare incontro ad una ipotrofia muscolare, ad una sarcopenia quindi può essere compromesso il suo equilibrio e soprattutto il suo assetto muscolare e poi soprattutto perché la levodopa che è il farmaco principe in questa terapia, di questa patologia quindi una terapia sostitutiva è importante perché può in qualche modo essere, il suo assorbimento può essere ridotto da alcuni cibi quindi il messaggio che vogliamo dare ai nostri pazienti è che una dieta bilanciata può anche evitare un sovradosaggio quindi una sovraprescrizione di farmaco e l'importante è calibrare farmaco e alimentazione.